Cardinale, lei prima ha ringraziato per questo clima coinvolgente e dinamico, ha con impressione a caldo di questa presenza tra noi nel rinnovamento? Sicuramente, anche quando ho fatto altre esperienze con i gruppi di rinnovamento, ho ritrovato questo clima che anche stamattina sta caratterizzando queste ore, anche grazie a una bellissima giornata e a un clima all'aperto in cui ci troviamo. Penso che bisogna ridare, sembra un dettaglio, al clima il suo valore, la sua importanza, per sostenerci e rilanciarci tutti in una speranza piena e concreta, che sia con i piedi per terra sempre, perché tutte le cose devono partire da terra e andare poi verso il cielo. Quindi un grazie a tutti quanti voi, insomma, per quello che fate e avete fatto e soprattutto per quello che farete. Qui siamo in periferia e lei prima ha fatto proprio riferimento anche alle sue origini, però è proprio Papa Francesco che ci richiama ad uscire, no? A non tralasciare mai l'attenzione proprio verso le periferie anche umane. Ecco, soffermiamoci anche brevemente su questo aspetto. Sì, assolutamente sì, Papa Francesco ne sta facendo, uno dei cardini, dei fili rossi del suo magisterio, del suo insegnamento, non solo le periferie geografiche, quelle fisiche, materiali, che nelle grandi città purtroppo corrispondono a grandi quartieri dove si ammassano tanti problemi, cioè tante problematiche ammassate insieme. Questo è quello che rende veramente il guaio, il problema della periferia, perché i problemi della periferia sono quelli che sono dovunque, che è a parte del suo umano, ma nel momento in cui concentri tante situazioni problematiche in un unico posto crei una specie di bomba esplosiva, le bandie parigine oppure queste risacche umane che troviamo ovviamente in termini ancora più grandi nei paesi del terzo mondo. La periferia però non è solo la geografia, ma è innanzitutto la persona umana, ecco, è il cuore dell'uomo, se potremmo ricitare il Vangelo. Papa Francesco ce lo dice, cioè ripartire da lì significa ridare a quella parte che resta forse potremmo dire in ombra, ridargli invece quella luce di cui ha bisogno e che serve assolutamente per farla non essere più periferia. Per questo partire da lì, ripartire da lì per andare verso un centro che sia un centro carico di luce, di speranza e anche di gioia. Minenza, lei ce l'ha consegnato come mandato alla fine della sua relazione, però ecco, in pillole, un augurio per tutto il movimento, per questa rinascita del rinnovamento. Un messaggio di speranza? Assolutamente sì, è già implicito nella vostra presenza, nella vostra preghiera, nel vostro esserci, questo non c'è ombra di dubbio. Sentirvi sempre parte di una Chiesa che è con voi ma è più grande di voi, che certamente è composta di tante altre membra e che tutte insieme devono armonizzarsi o come un'orchestra che suona, dove ognuno suona il suo strumento ma insieme agli altri, innanzitutto. E poi ricordare l'altro augurio che vi lascio, che risintetizzo da quello che dicevo prima, è proprio di essere un po' come lo Spirito Santo, che non lo catturi, non lo chiudi dentro una struttura perché lui va dove vuole, cioè di essere un po' così, o potremmo usare altre immagini evangeliche, il lievito che si sfalda e che perde consistenza dentro la pasta perché possa diventare, possa crescere e diventare qualcosa di grande. Credo che ci sia bisogno di questo, è la ricerca di senso, è la ricerca alle risposte a quelle domande profonde che stanno in ciascuna persona, anche nelle persone più lontane. Quindi spero che riusciate e che riusciamo insieme come Chiesa anche con la vostra presenza e il vostro aiuto a dare queste risposte. Grazie e buon cammino a casa. Grazie a tutti.